Torno operativo lo sportello di contrasto alla violenza domestica e di genere l'abbraccio a Silvi. Dopo la gestione affidata negli anni passati all'associazione Nova Civitas, ora il servizio passa nelle mani della cooperativa L'Elefante Rosso. Uno sportello molto importante, volto a sostenere la famiglia nella sua integrità con assistenti, psicologi e avvocati. Mi viene da fare un ringraziamento alla Nova Civitas con l'avvocato Luigi Corneli che ha eseguito un ottimo servizio con la prima parte dello sportello. Oggi si va avanti, le cose si evolvono, le associazioni arrivano a un punto che si fermano e quindi riparte con molta forza con l'Elefante Rosso, una nuova associazione che secondo me potenzierà questo servizio. Che situazione c'è ad oggi a Silvi? Nel corso del tempo abbiamo riscontrato che le problematiche ci sono, il Covid ha dato un impulso negativo verso questa fase, però Silvi è pronta, l'amministrazione comunale ha fatto un ottimo intervento con questo servizio. Un servizio che si farà carico non solo delle problematiche presenti nel comune di Silvi ma di tutto il territorio compreso nell'ambito sociale distrettuale di zona Finocerrano e che nell'ultimo anno ha fatto registrare diversi interventi di aiuto. Ci sono stati 42 contatti durante l'ultimo anno, una metà poi presi in carico proprio effettivamente, quindi chiedevano appunto informazioni su come muoversi per gestire determinate situazioni e lo sportello ovviamente era lì per ascoltarli. In questi giorni lo sportello che rimane nella sua sede storica in via Piave 5 a Silvi Marina ha riattivato l'accoglienza garantendo ogni tipo di tutela agli assistiti. Inoltre sono state annunciate anche importanti novità. Una serie di servizi volti all'orientamento della donna vittima di violenza sia per quanto riguarda la formazione che è il mondo lavorativo. È per questo che ci apprezzeremo a iniziare tutto un lavoro di collaborazione anche mediante l'avvio di convenzione e protocolli con tutti i soggetti quindi anche a livello di aziende, a livello appunto di enti che a vario titolo ci possono supportare in questa attività. Qui diciamo sarà sicuramente uno sportello che servirà appunto alla donna principalmente, alla vittima di violenza, di poter comunque anche inserirsi o barrare inserirsi nel mondo lavorativo.